Mopassant, petizione di un gaudente involontario. Signori Presidenti dei Tribunali, signori magistrati, signori giurati, ora che in considerazione della mia età e dei miei capelli bianchi non ho più interesse alla questione, eccomi qui a protestare contro i vostri verdetti, contro la rivoltante parzialità delle vostre decisioni, contro quella specie di cieca galanteria che vi spinge a concludere sempre a favore della donna contro l'uomo ogni volta che una questione d'amore viene portata davanti alle vostre corti. Sono vecchio, signori, ho molto amato, o per dir meglio ho amato spesso. Il mio povero cuore, tutto piagato, ancora un fremito al ricordo degli antichi amori. Quando, nelle notti tristi e solitarie, la vita passata ci appare come una illusione finita, quando le lontane avventure, ormai velate come tapezzerie scolorite, ci riempiono di tristezza e fanno salire agli occhi le lacrime dolorose che si versano sull'irreparabile, allora apro tremando un'umile cassetta di noce, dove giacciono i miei lamentevoli pegni d'amore, dove dorme la mia vita, ormai conclusa. Quando vi metto la mano, là dentro si muove la polvere morta di tutto ciò che ho adorato sulla terra, e si inghiozzo sulla scarpetta, sulla fine scarpetta di raso ormai ingiallita, ma che fu bianca, e che le tolsi dal piede, quella sera, nel giardino, per impedirle di tornare a ballare. Bacio i guanti, le ciocche di capelli biondi o neri, le tre giarrettiere di seta e il fazzoletto ricamato macchiato di sangue, una piccola macchia che sembra di ruggine, nella quale un giorno racconterò la storia. Ma non è di questo che voglio parlarvi, soltanto ho voluto farvi capire che molte donne hanno avuto per me delle debolezze. E ciò è accaduto nonostante io sia il più timido, il più indeciso, il più esitante degli uomini. Sono così timido che mai avrei osato quel che sapete, se le donne non fossero state loro a osare per me. Poi ripensandoci, ho capito che nove volte su dieci è l'uomo che è sedotto, adescato, sequestrato, preso al laccio con vincoli terribili. Lui, il seduttore che diffamate. È lui, la preda, la donna è il cacciatore. Un processo recentissimo celebrato in Inghilterra mi ha fatto balenare improvvisamente la verità. Una ragazza, una cassiera, era stata, come dite voi, sedotta da un giovane ufficiale di marina. La ragazza non era più tanto fresca e aveva già avuto qualche esperienza d'amore. Passa un po' di tempo e viene abbandonata, così si uccise. I magistrati non riuscirono a trovare espressioni sufficientemente infamanti, sanguinose, ingiuliose, per disonolare l'infame seduttore. Anche voi, signori, avreste fatto lo stesso. Ebbene, non conoscete le donne, non le capite. Siete odiosamente ingiusti. Sentite. A quel tempo ero un giovanissimo ufficiale di guarnigioni in un porto. Frequentavo il bel mondo, mi piaceva ballare ed ero timido, come ho detto. Un bel giorno mi avvidi che una donna matura, ancora molto bella, sposata, madre di famiglia e, a quanto si diceva irreprensibile, mi teneva d'occhio. Quando ballavamo insieme, i suoi occhi mi fissavano in maniera così intensa che non avevo più dubbi. Non mi disse niente, è vero, ma quando mai una donna ha bisogno di parlare? Uno dei suoi sguardi non è forse più provocante, più impudico, più evidente di ogni nostra ardente dichiarazione. Sul principio feci finta di non capire, ma poi l'insistenza di quella muta provocazione mi turbò. Le mormorai all'orecchio parole tenere e un giorno si abbandonò a me, signori. L'avevo sedotta io. Quante volte lei me lo ha rimproverato. Mi amava di una passione terribile, incessante, gelosa e feroce. Mi hai voluta. Di cosa potevo rispondere? Rimproverarle le sue occhiate? Siate giudici voi, signori. Lei non mi aveva detto nulla. Alla fine venne a sapere che il mio reggimento doveva partire. Ero salvo. Una bella sera tuttavia, verso le undici, me la vidi arrivare improvvisamente nella mia cameretta di ufficiale. Tu parti, disse, e io sono qui a offrirti la più grande prova d'amore che una donna possa dare. Vengo con te. Per te abbandono mio marito, i miei figli, tutta la famiglia. Agli occhi del mondo mi perdo, mi disonoro, ma sono felice perché lo faccio per te. Sentì un sudorino freddo scendermi giù per la schiena. Mi presi le mani, la supplicai di non compiere quel sacrificio. Non potevo accettare. Cercai di calmarla, di farla ragionare, ma fu tutto inutile. Allora, guardandomi negli occhi, mi disse con voce sibilante. Saresti dunque un vigliacco? Così vigliacco da sedurre una donna e abbandonarla al primo capriccio? Protestai. Cercai di farle capire la pazzia del suo gesto, le conseguenze che avrebbe avuto per la nostra vita. Ma lei ostinatamente rispondeva, io ti amo. Per tutta la pazienza, le dissi senza peli sulla lingua, non voglio, ti proibisco di venire con me. Allora lei si alzò e uscì senza dir parola. Il giorno dopo seppi che aveva tentato di avvelenarsi. Per otto giorni rimase tra la vita e la morte. Una sua amica e confidente venne a cercarmi e mi rimproverò con brutalità di infame mia condotta. Fui inflessibile. Per un mese intero sentii parlare di lei soltanto vagamente. Si diceva che fosse molto malata, ma improvvisamente venne avvertito dall'amica che ormai non c'era più niente da fare. Era spacciata. Soltanto una promessa d'amore avrebbe potuto salvarla. Allora promisi tutto quello che volle lei. Guarì e la portai con me. Si capisce? Mi ero dimesso. Abbiamo vissuto per due anni insieme in una cittadina italiana, vivendo l'orribile vita degli adulteri in fuga. Una mattina si presenta da me suo marito. Senza alcuna violenza né collera, veniva a cercare la moglie. Non per sé, ma per le sue creature, per le sue figlie. Signori giurati, credetemi. Non chiedevo di meglio che restituirgliela. La feci chiamare e la lasciai sola con il marito che aveva abbandonato. Ma lei non volle seguirlo. Toccò a me. Allora pregarla, supplicarla. Era uno spettacolo piuttosto strano vedere me e il marito di lei implorarla. Io di lasciarmi, lui di tornare. La donna ci buttò sulla faccia queste parole. Siete due miserabili! E ci lasciò con un palmo di naso. Il marito prese il cappello, salutò e disse. Vi compiango, signore. Lo disse di cuore e se ne andò. Tenni quella donna con me ancora per sei anni. Sembrava mia madre. Morì. Ebbene, signori, quella donna, prima di questi fatti, non aveva mai fatto parlare di sé. Non era mai stata sospettata di avere certe debolezze. Sicché per tutti sono stato io a rovinarla, a trascinarla nel baratro, a ucciderla. Sono stato io a disonorare la sua famiglia e asseminare la vergogna intorno a me. Sono un miserabile e un mascalzone. Voi mi avete condannato all'unanimità. Questa storia si era risaputa in giro. Era un seduttore e le donne mi guardavano con una certa emozionata curiosità. Per averle non avevo che da allungare una mano. Così ne ho amate parecchie, che mi hanno tradito. Altri mi hanno tormentato in maniera orribile. Di continuo mi si presentava questa alternativa. Essere Giuseppe che lascia il suo mantello o essere il martire gettato alle leonesse. Ho terminato, signori. Guardate Parigi fra mezzogiorno e luna. Guardate quelle ragazzine con i capelli al vento. Quelle piccole operaie che passano a coppie sui marciapiedi. Provocanti. Lo sguardo ardito, pronti ad accettare ogni appuntamento in cerca d'amore per le strade. Sono le vostre clienti. Penetrate nei loro cuori. Ascoltatele parlare. Cara mia, se mi capita la fortuna di trovare un ragazzo, sta sicura che me lo terrò stretto, che non mi lascerà come è accaduta da me lì, perché se lo facesse dovrebbe stare attento al vetriolo. E quando un bravo ragazzo passa accanto a lei, riceve in faccia, nel cuore, quello sguardo che significa «quando vorrai». Si ferma. La ragazza è graziosa e pronta. E lui cede. Dopo un mese voi condannerete e coprirete di insulti quel furfante che ha sedotto e abbandonato la povera fanciulla. Ora, qual è il cacciatore? Qual è la selvaggina? Non dimenticate tutto ciò, o signori. L'amore per le donne è vita. Esse giocano con noi come il gatto con il topo. La ragazza cerca il marito che più le conviene. Quelle che cercano amanti li vogliono alle stesse condizioni. Quando un uomo, subodorata alla trappola, sfugge dalle loro mani, le donne si vendicano alla stessa maniera del cacciatore che uccide con un solo colpo di fucile il coniglio scappato al laccio. Questa è la mia umile opinione. Una opinione basata su una consumata esperienza. La sottopongo alla vostra meditazione. Ho l'onore di essere, signori presidenti dei tribunali, signori magistrati, signori giurati, il vostro servitore obbediente.